Cricchetto, che ne diresti di venire a vedere il mondo con me? Sul serio? Andiamo, amico! Dai creatori di Toy Story 3! Questa sì che è bella! Benvenuti al World Grand Prix! Tre gare in tre nazioni diverse e solo una squadra può vincere! Ciao, ciao! Vai McQueen! Che strategia hai usato oggi? Appena McQueen è spumbata. Lo si supera, poi si vince. Francesco vince sempre. È una malingunica. Disney e Pixar vi invitano a un viaggio intorno al mondo. Benvenuti a Londra! È americano? Estremamente. Non parlano la lingua. Zio Topolino! Puoi provare una gusarella? Ha detto che ti metterà l'ingresso, ose? Ma stanno per scoprire che qualcuno vuole fare di questa gara la loro ultima gara. Sai, McQueen? Deve essere fermato. Vieni duro, McQueen! Finn McMissile. Intelligence Britannica. Sono l'agente Shipwain. Holly Shipwain. Voi giovani avete le attrezzature migliori. Ci serve il tuo aiuto, Cricchetto. Vi serve il mio aiuto? Sidley? Sì, Finn. A Parigi. Tu sì. Grazie. E tante cose belle. McQueen! Cerca di non dare nell'occhio, Cricchetto. Oh, non ci posso credere. Dove siamo? Dentro Big Bentley. Adesso sì che si ragiona. Sono testa a testa. Vicini al traguardo. Un tantino eccitato, vero? Cricchetto! Cricchetto! Cricchetto!